Riaprirà il 4 aprile la bocca di porto del Lido con la posa dei nuovi cassoni per i lavori del Mose in autunno a Malamocco. Navi da crociera pronte dunque a rientrare a Venezia, anche se i tempi non dovessero essere rispettati. Tocca ora il prossimo step del progetto Mose con lo stesso iter del Lido per la bocca di Malamocco, dove in autunno comincerà la posa dei nuovi cassoni e l'allerta tre mesi prima per gli operatori turistici. Ma le difficoltà non sono poche perché il porto commerciale a Marghera non è cosa semplice. Certo, dall'autorità portuale e dalla Capitaneria di Porto arriva l'assicurazione che i lavori saranno effettuati in 20 giorni totali, distribuiti però in 4 mesi. A differenza del Lido però, priorità l'avranno le navi, quindi i lavori di posa annunciati con almeno due giorni di anticipo cadranno nei momenti di minore afflusso possibile. Insomma, ridurre al minimo il disagio, oltre che i costi. Le utenze del porto infatti non dovranno pagare costi extra per l'accesso a Marghera.